Amazon starebbe valutando il taglio record nella sua storia di 10.000 posti di lavoro. La notizia, rilanciata dal New York Times, arriva mentre il fondatore del colosso dell'e-commerce ha dichiarato alla CNN che intende donare in beneficenza la maggior parte della sua fortuna di 124 miliardi di dollari, soprattutto per combattere il cambiamento climatico e ridurre le disuguaglianze. In precedenza Bezos era stato criticato per non aver promesso di dedicare la sua fortuna a cause benefiche. Bezos e altri imprenditori sono stati in più occasioni criticati anche per aver speso ingenti somme di denaro in viaggi nello spazio invece che risolvere i problemi sulla Terra. Amazon era stata invece criticata in passato dai suoi dipendenti per i suoi precedenti sui cambiamenti climatici. E proprio lunedì il New York Times ha pubblicato la notizia della valutazione da parte del gigante dell'e-commerce di licenziare circa 10.000 persone nel corporate e nelle tecnologie a partire da questa settimana. Il piano di licenziamenti riguarderebbe, secondo il New York Times, circa il 3% dei dipendenti corporate di Amazon e meno dell'1% della sua forza lavoro globale di oltre un milione e mezzo, composta principalmente da lavoratori a ore. Il ridimensionamento è pianificato durante la stagione cruciale dello shopping natalizio, quando l'azienda in genere preferisce la stabilità. Secondo il quotidiano americano anche questo dimostra quanto rapidamente la crisi dell'economia globale abbia avuto un impatto.